Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto tappeti Tappeto Maal 402 X 304. Questi tappeti vengono annodati nella parte occidentale della Persia centrale, nella regione di Sarok. Sono prodotti con molti diversi motivi ma presentano spesso un medaglione centrale e una cornice chiaramente definita. I tappeti Maal sono molto resistenti all'usura. I motivi si ispirano alla potenza coloniale britannica del 1800. Lavorazione, annodato a mano. Spessore circa, 12 mm. Pelo, lana, ordito, cotone. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione. Grazie. 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 Grazie.